Ma quindi questi anelli smart sono stati un fallimento? In tutti i miei ultimi video mi avete visto con questo anello smart. Qualcuno mi ha anche chiesto ma che anello è? Quale anello hai deciso di comprare? Le risposte sono multiple. Che anello è? Questo è un Oura Ring 4 che ho acquistato per farne una prova, per farne una recensione, perché avevo ritenuto il modello precedente il miglior anello. Ma la risposta alla domanda quale anello terrai? La risposta è nessuna, perché per come mi aspettavo io questo mondo, beh, questi anelli mi hanno in qualche modo un po' deluso. E quindi sì, almeno dal mio personale punto di vista sono stati un po' un fallimento, se vogliamo, ma questo video sarà l'occasione appunto per dirvi tutto quello che penso sull'universo degli smart ring, usando Oura Ring 4 che vi anticipo essere ancora una volta il miglior anello smart sulla piazza, proprio per spiegarvi il perché. Se volete supportarci ovviamente potete farlo iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, ma dove dovete assolutamente esserci per non perdere nessun contenuto esclusivo è sul nostro WhatsApp che lo trovate in descrizione. Partiamo allora parlando proprio da Oura Ring 4, la quarta generazione dello smart ring più famoso del mondo. indubbiamente l'azienda che per prima ha avviato il mondo degli anelli smart e che anche dalla mia prova era risultato come il miglior prodotto sulla piazza in assoluto. Questo anello cambia su alcuni aspetti, cambia per esempio sulla base di ricarica, ma cambia soprattutto sulla qualità costruttiva, visto che adesso è realizzato interamente in titanio e non più soltanto la parte esterna e cambia anche dal punto di vista di autonomia che adesso si aggira attorno a, secondo l'azienda, 8 giorni, io vi parlo di 6-7 giorni. Comunque niente ha fatto un cattivo risultato, quindi andando ancora a migliorarsi. In più si parla di una maggiore precisione, ma anche di una maggiore comodità, visto che l'anello non ha più le protuberanze dei sensori all'interno, sensori che sono stati integrati all'interno della scocca e quindi non ha più quelle bolle, diciamo così, all'interno che servivano per fare un po' di pressione sulla pelle per leggere meglio i vostri segnali vitali. Questa è una comodità a tutti gli effetti, perché l'anello adesso si sfila e si infila con più semplicità, visto che se lo comprate della misura giusta adesso appunto è esattamente come dovrebbe essere per il vostro dito e non ha più quelle piccole protuberanze che potevano far sì che fosse un pochino più stretto di quanto desiderato, insomma è un anello a tutti gli effetti migliorato, anche perché già il precedente modello era incredibile. In cosa Ora Ring è incredibile? Quello che fa estremamente bene è leggere i vostri valori, il vostro stato di salute, quindi il battito cardiaco, ossigenazione del sangue, temperatura della pelle, respirazione eccetera eccetera e tramutarli in dei dati concreti ma soprattutto utili. Quello che rende davvero speciale Ora Ring e anche altri anelli smart è quindi non tanto il prodotto di per sé che è sì incredibile ma non vi dà niente di più rispetto a un anello qualsiasi puramente estetico ma alla sua applicazione. L'applicazione di Ora Ring è veramente spettacolare perché è chiarissima ma tra l'altro tramuta in informazioni davvero utili, davvero chiare ma soprattutto con cui le persone possono davvero connettersi tutti i dati che ha raccolto. Per esempio durante l'oltre un mese di prova di Ora Ring che ho fatto di recente due volte non sono stato molto bene e due volte lui lo ha detto in modo chiaro, lo ha riportato chiaramente nei grafici, mi ha dato dei messaggi chiari, un punteggio unico chiaro, mi ha consigliato di riposarmi, mi ha consigliato di attivare una modalità di riposo che faceva sì che un po' tutti gli obiettivi all'interno dell'applicazione si abbassassero. Insomma era davvero un'applicazione che riportava come stavo, mi dava una conferma o una smentita di quali erano le mie sensazioni e la mia lettura personale del mio corpo, insomma era veramente una estensione smart di quello che potreste fare senza un dispositivo. Fatemi spendere ancora un paio di parole specifiche per questo modello, intanto devo dire che è uno di quelli che gestisce meglio lo sport automatico. In generale, come vi dirò, nessuno di questi anelli è davvero pensato per lo sport, ma se andate un po', se fate qualche nuotata, se fate qualche biciclettata, qualche camminata, qualche corsa, è il prodotto che meglio è riuscito in automatico a capire quando un'attività partiva. Non sempre, non al 100% dei casi, non nel 100% dei casi ha capito quale fosse l'attività giusta, ma tanto vi chiede sempre una conferma tramite applicazione e lì appunto potete andare a correggere eventualmente lo sport che ha riconosciuto male l'applicazione stessa. Prima di dirvi perché secondo me gli smart ring in generale hanno fallito, almeno fino a questo momento, vi dirò dove non hanno fallito affatto, dove hanno avuto successo, perché questi prodotti sono molto interessanti per chi sono molto interessanti. Intanto per tutte le persone che vogliono tracciare la salute, non lo sport ma il proprio stato di benessere, questi prodotti sono non tanto dal punto di vista tecnologico, perché alla fine sono un po' una versione miniaturizzata di uno smartwatch, ma dal punto di vista proprio di concezione dell'applicazione, dei prodotti che hanno in testa prima di tutto il benessere e lo sport soltanto in funzione secondaria, anche perché come vi dicevo non sono perfetti dal punto di vista di misurazione e di registrazione dell'attività sportiva. E quindi gli smart ring vanno a rispondere a un'esigenza nuova, di un pubblico nuovo che magari negli smartwatch non trovava quello che stava cercando, quindi appunto un attracciamento più preciso del benessere. E poi, proprio all'atto pratico, gli smart ring sono il prodotto perfetto per chi non riesce a portare gli orologi mentre si dorme e appunto se state cercando di misurare il vostro benessere, la parte del sonno è fondamentale. Se vi danno fastidio gli orologi al polso mentre dormite, gli smart ring sono una delle soluzioni, ma comunque forse una delle più comode per quanto riguarda appunto il tracciamento del sonno. Partiamo da quelle che però sono le quattro ragioni, secondo me, per cui gli smart ring non ce l'hanno ancora fatta. La prima è che non offrono dal punto di vista tecnologico, come vi stavo dicendo, qualcosa in più rispetto a uno smartwatch, ma non offrono neanche le stesse cose che può garantirvi uno smartwatch. Al netto dell'ovvia assenza di un display, che ovviamente non potrete avere, quello a cui mi riferisco è il fatto che nessuno smart ring abbia la funzione di pagamenti tramite NFC. E qui so già cosa state per andare a commentare qua sotto, ma ne parleremo fra un attimo. E quindi sostanzialmente si va ad avere un prodotto che è un po' monco, che manca di una funzione che quasi naturalmente sembra far parte di un prodotto di questo tipo. diamo per scontato che gli smartwatch di fascia alta abbiano questi prodotti, questi anelli, che sono quasi tutti di fascia alta, e anche di questo riparleremo, non hanno la possibilità di pagamenti. So che qualcuno di voi sarà già corso nei commenti a dirmi, sì, ma questo smart ring ha i pagamenti, quest'altro smart ring ha i pagamenti, sì, ma gli smart ring a cui voi fate riferimento hanno solo i pagamenti. E quindi per assurdo riescono quasi ad aver più senso loro, che costano meno, non hanno una batteria da caricare e offrono una funzionalità molto specifica, ma molto chiara e che va a rispondere appunto a un'esigenza di tante persone, quella di non doversi più portare in giro il portafoglio e di poter pagare anche se non si ha lo smartwatch, lo smartphone, oppure si è scaricato. La seconda motivazione, ve l'ho un po' già raccontata, un po' spoilerata, ovvero non sono prodotti pensati per il tracciamento dell'attività fisica. Lo fanno come funzionalità, diciamo, extra. Alcune app di alcuni produttori addirittura lo offrono in beta. Vi posso garantire che se si tratta di qualche camminata, di qualche corsa, qualche pedalata, può ancora andare bene, ma appunto se fate sport uno smartwatch o ancora meglio uno sportwatch sono ancora ad oggi l'unica risposta giusta. E se queste cose un po' me le potevo immaginare anche prima di provare uno smart ring, quello che non mi potevo immaginare e che invece mi ha deluso, è il fatto che queste applicazioni non siano proattive. Mi spiego meglio. Credo per una questione di autonomia, lo smart ring e il vostro smartphone non sono in perenne connessione. In sostanza i dati vengono scaricati soltanto nel momento in cui voi aprite l'applicazione e sebbene ci siano delle piccole differenze funziona così per tutti gli smart ring e questo crea un problema, crea il fatto che voi indossate il vostro anello ma se non avete tempo, non avete testa, non vi siete ricordati, non avete quindi aperto l'applicazione, fino a quel momento l'anello è come se fosse stato completamente inutile perché soltanto in quel momento lui scarica i dati e inizia a fornirvi delle indicazioni sullo stato di salute, dei consigli, delle guide magari da seguire per migliorare i risultati delle metriche che lui va a misurare, ma appunto lo fa sporadicamente, soltanto quando voi aprite l'applicazione. E questo è un po' secondo me un grosso limite perché fa sì che l'anello non possa essere proattivo, non possa essere lui a inviarvi una notifica, non possa essere lui a consigliarvi di fare una cosa specifica in quel momento. Ci sono alcuni prodotti che generano e inviano notifiche di questo tipo ma non è mai, mai in nessun caso, un'informazione puntuale e quindi proprio perché si tratta del benessere più che dell'attività fisica mi sarei aspettato da queste applicazioni e dal funzionamento proprio di questi smart ring un po' più di proattività da parte loro, qualche notifica in più, qualche consiglio in più che mi spingesse a fare meglio, ad aprire l'applicazione e a scoprire cosa l'anello ha scoperto di me. Il quarto fattore è quello che secondo me avete pensato per primo, ovvero il prezzo. Questi prodotti costano ancora veramente troppo. Ora Ring, che è il primo prodotto che io vi consiglierei, viene proposto a un prezzo di 399 euro di partenza per alcune colorazioni. Si sale fino ai 549 euro delle colorazioni oro e oro rosa, ma basta pensare al Galaxy Ring che si aggira attorno ai 400, 450 euro e anche i concorrenti come Ringcon oppure Ultra Human che hanno prezzi inferiori ma sempre attorno ai 250, 300, 400 euro. Purtroppo questo prodotto che è oggettivamente un concentrato di tecnologia veramente straordinario, pensate a quanta tecnologia è presente all'interno di un anello così piccolo, è difficile un po' da valutare con un prezzo di questo tipo. Ho visto molti dei vostri commenti e credo che la percezione di un oggetto così piccolo che sembra così semplice sia che non dovrebbe costare più di un centinaio di euro. E questo ovviamente è un grosso problema per l'adozione di un prodotto che costa 3, 4, 5 volte tanto. E se proprio vogliamo dirla tutta, il problema finale, sempre relativo al prezzo, è che il miglior Smart Ring in circolazione viene venduto ma finché non attivate il suo abbonamento da 6 euro al mese è praticamente inutile. Questo è valido anche per la quarta generazione, forte del fatto che secondo me Samsung non è riuscita a scalfire davvero al momento il mercato degli anelli Smart, Ora Ring ha ritenuto, forse anche a ragione dal loro punto di vista, che l'abbonamento potesse proseguire, che servissero ancora 6 euro al mese per poter utilizzare il miglior anello Smart sulla piazza. E questi sono i motivi per cui secondo me il mondo degli Smart Ring in generale ha fallito. Non in assoluto, non per sempre, non è valido per tutti, non è valido per tutti i prodotti ovviamente, ma è indubbio che al momento di persone che hanno valutato o hanno magari già acquistato uno Smart Ring ce ne sono poche, ce ne sono poche perché probabilmente per i motivi per cui vi raccontavo non è riuscito a diventare un prodotto davvero desiderabile per le persone. Ma ovviamente non è finita qui, il mio consiglio è intanto di seguirci nel canale di Telegram delle offerte perché lì magari potreste trovare degli Smart Ring interessanti scontati per brevi periodi, soprattutto ora che sta arrivando il Black Friday e quella potrebbe essere un'occasione se siete dei curiosi, dei tecnologizzati curiosi che vogliono tracciare il proprio benessere potrebbe essere l'occasione giusta per poterne finalmente acquistare uno. E per il resto ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche perché il fatto che io non avrò un mio anello Smart personale alla fine di questa prova non vuol dire che non utilizzerò mai più Smart Ring, anzi sono molto curioso di scoprire cosa offriranno i prossimi modelli. Se volete saperne di più nello specifico su Ora Ring 4 trovate o troverete nei prossimi giorni la recensione completa su smartword.it. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e noi ci vediamo a un prossimo video.